Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per venerdì 12 gennaio 2024. Una profonda depressione oceanica ad ovest della penisola iberica schiaccia l'alta pressione con massimi sul Regno Unito, spingendola verso nord ed allungandola a sud. La spinta verso nord darà l'infa per un nuovo impulso meridiano di aria gelida, che dalla Scandinavia si sposterà sull'Europa centro-orientale. Nel mentre, la pressione è in rinforzo in area mediterranea, dove il tempo andrà gradualmente migliorando con gli impulsi perturbati in fuga definitiva verso Levante. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 12 gennaio 2024. Nord. Cieli sereni o poco nuvolosi in area collinare e montana, mentre nelle pianure torneranno le nebbie, in lenta dissoluzione nel corso della mattinata. Localmente tali nebbie potrebbero persistere per tutta la giornata, specie sulle pianure sud-occidentali del Piemonte. Centro. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi lungo la fascia tirrenica, mentre in area adriatica saranno presenti dei residui addensamenti da stau, più compatti nel pomeriggio, dovuti al permanere di un flusso di aria fredda dai quadranti nord-orientali, sud e isole. La depressione che ha insistito tra le due isole maggiori tenderà a spostarsi verso sud dando il via ad un graduale miglioramento. Tuttavia avremo dei residui addensamenti sulle isole e dall'estremo sud, accompagnati da qualche piovasco, più intenso tra Calabria e Sicilia. Schiarite ovunque dalla tarda serata. Temperature massime in lieve aumento nelle zone interessate dalle ampie schiarite. Minime in calo nelle zone pianeggianti, soprattutto in presenza di cieli sereni e di venti in attenuazione. Termiche in quota che rientreranno in media. Ventilazione generalmente moderata tra nord e nord-est con rinforzi pomeridiani in area centrale, insulare e meridionale. Mari molto mossi, con moto ondoso in attenuazione iniziando dai bacini settentrionali. Tendenza in area italiana per sabato 13 gennaio 2024 e domenica 14 gennaio 2024. Bel tempo su tutta la penisola nella giornata di sabato con ampie schiarite, salvo la presenza di qualche blando addensamento di passaggio. Fitte nebbie nelle valli del nord, che potrebbero persistere per tutta la giornata sul comparto occidentale padano. Dalla sera tornano ad aumentare le nubi ad iniziare da ovest e rientrerà qualche nube bassa tra Liguria e Toscana per la disposizione delle correnti da sud-ovest sull'alto tirreno. Leggero peggioramento domenica sul comparto insulare e tirrenico, dove avremo molte nubi accompagnate da piogge sparse generalmente deboli, in intensificazione serale sul basso tirreno. Ancora nebbia al nord, temperature in graduale aumento e venti in rotazione tra sud e sud-ovest, specie domenica. Grazie a tutti della vostra attenzione, non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.